Ciao bimbi! Come state? Tutto bene? Oh, sono contenta! Io anche sto bene, dai! Allora, siete pronti a lavorare un pochino? Certo! Bravi! Sono proprio contenta! Oggi parliamo per ancora una volta di casa. Ma mi direte, ma maestra! Ma insomma, ma ancora di casa, ma come, di cosa parliamo? Abbiamo parlato di com'è fatta fuori, com'è fatta dentro, su che spazi abbiamo fuori. Adesso che cosa manca? Pensateci un attimo! Manca una cosa che noi usiamo tutti i giorni. O già, che siamo costretti a rispettare ogni giorno. A casa, come a scuola, come quando siamo in giro. Avete bisogno di un aiuto? Qualcuno è indovinato? Non sento nessuno! Vabbè, allora vi aiuto io, siete pronti? Dobbiamo parlare di regole! Perché? Oh già! Perché a casa, come a scuola, di regole ce ne sono tante, è vero? Ce ne sono alcune che dobbiamo rispettare, sia a casa che a scuola. E alcune invece tutte di casa. Allora, adesso proviamo a fare un gioco. Siete pronti? Faccio una magia! Da-da! Eccomi! Avete visto? Sono diventata piccola! Oh, ora vi faccio vedere un po' qualche disegno. Guardate un po' questo disegno qua. Chi sono? Oh, lo sapete, la maestra Silvia a questa regola ci tiene tantissimo. E sono convinta, anche i vostri genitori. È proprio quella. Bravi! Chi l'ha detto? Non ho sentito bene. Stare seduti a tavola composti. E magari anche assaggiare tutto, è vero? Oh già! Perché se non stiamo seduti composti, ci sporchiamo tutti! E in più, che cosa succede che è già successo anche a scuola? Oh, le sedie messe male possono far inciampare le maestre. O la mamma, o il papà, la nonna. Che disastro! No, eh! Mi raccomando, stiamo seduti composti. Ma guardate un po' qui sotto cosa salta fuori. Oh, due bimbi. Oh, ma fanno la stessa cosa. No, no, fanno due cose, si dice, opposte, completamente diverse. Quale sarà la regola? Provate a osservarli bene. Allora, questi due bimbi stanno lavorando proprio bene. Ognuno sul proprio foglio. E qui, invece... Bravi! C'è qualcuno che fa un dispetto. No, no. Diteglielo un po'. Si fanno i dispetti. Ognuno sul proprio foglio. Anche a casa, eh? Con le vostre sorelle. Non fatevi dispetti, mi raccomando. Guardate un po' questa. Questa sono sicura che in più occasioni accada quando vi arrabbiate. Guardate un po'. Questi due bimbi che cosa fanno? Chi l'ha indovinato? Oh, già. Stanno urlando. Litigano. No, 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 no. Si litiga. No, bravi. Bisogna parlarsi con calma. E vedrete che le cose si risolvono. Anche meglio. Senza arrabbiarsi tanto. Vediamo cosa viene fuori sotto. Ah! Oh! Guardate un po' queste due immagini. La maestra Erika ne ha un po' parlato, è vero? Guarda qui. Qui abbiamo un bel bimbo che innaffia i fiori. E qui sotto? No! Un bimbo dispettoso che cosa fa? Strappa tutto. No! Ma povera natura! Poveri fiorellini! Allora, quale sarà la regola? I fiori non si strappano. Soprattutto quelli del giardino di mamma, eh? O quelli che mettiamo nei vasetti apposta per farli, per coltivarli, per vederne tanti di belli. Qui sotto ce n'è un'altra. Guardate un po', guardate un po' qua. Ma cosa fa questo bimbo? Lo vedete? Cosa fa con questo piede? E quel povero gatto? È disperato. Proprio disperato. Perché questo bimbo qua, proprio dispettoso, gli sta pestando la coda. No, no. Non si fa. È vero? Si fanno cosa ai gatti e agli animali in generale? Tante coccole. Coccole, coccole, coccole. Eh già. E qui abbiamo due bimbi. Uno che lascia tutta la spazzatura in giro. E l'altro invece che la raccoglie. Cosa facciamo noi a scuola? Dove la buttiamo la spazzatura? La lasciamo per terra? No. E anche a casa. Non si lascia per terra. Cioè ci sono i cestini. Perché non li usiamo? Certo che li usate. Voi siete bravissimi. Non siete mica maleducati come questi bimbo. Oh, questo è un'altra regola importantissima. Guardate qua. Guardate questa povera macchinina. Che fine ha fatto? Si è rotta? Oh già. Perché? Qualcuno l'ha calpestata e l'ha trattata proprio male. E invece i giochi si trattano bene. Altrimenti non ne abbiamo più. Ah già. È vero? La mamma e il papà mica possono continuare a comprare perché voi avete poca cura. No, eh. Siate bravi. Tenete da conto i vostri giochi. Così durano per tanto tempo. Oh. Ecco qui. Una regola che vale sempre. E mamma e papà sono sicure che ve l'hanno detto. Oh. Questa bimba scrive sul foglio. Bravissima. Ma questa? No. Avete visto? Scrive sul muro. Ma si scrive sui muri. No, 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 no. È solo concesso ogni tanto scrivere sul marciapiede ma solo con i gesti. Mi raccomando, eh. Perché così con l'acqua vanno via. Altrimenti non si scrive da nessuna parte se non sul foglio. È vero? Bravi. Eh, qui abbiamo di nuovo due bimbi. Uno che butta la spazzatura per terra. L'altro invece che la butta nel cestino. Oh. Qui abbiamo una bimba disobbediente che la mamma la chiama e cosa fa? Scappa via. Ma si scappa dalla mamma, dal papà, dal nonno. Nonno. Quando il nonno e la mamma chiamano, si va, eh. Mi raccomando. È importante. Eh, e guardate un po'. Qui abbiamo un bimbo che aiuta la mamma. Una bimba che scappa via. Va bene? No, no. Per cui aiutiamo la mamma. Aiutiamo il papà a casa. Non scappiamo, eh. E poi qui sotto ci sono quattro paroline che alle maestre piacciono tanto. Ed è per favore, grazie, scusa e ciao ciao. Sono parole proprio importanti, è vero? Sono bellissime queste parole. E vanno sempre usate più che potete. Oggi, allora, vi chiedo di scegliere quali sono le vostre regole preferite. Quelle che usate di più a casa. Allora, se volete, la maestra Silvia ha anche fatto una piccola scheda. Se avete la possibilità, potete stamparla. Altrimenti, potete semplicemente prendere ispirazione e creare il vostro disegno. Delle vostre regole preferite. Ve la faccio vedere. Siete pronti? Da-da! Eccola qui. La troverete comunque, eh. Allora, vediamo se riusciamo a vedere tutto. Dovresti riuscire a vedere tutto adesso. Ora, eccoci. Vedete? Mangiamo a tavola composti. Aiutiamo ad innaffiare i fiori. La spazzatura nel cestino. I giochi al loro posto. Questo cuore è perché a casa la regola principale è volersi bene, sempre. Aiuta la mamma o il papà. Non urlare. Vai a nanna presto. E questa qui sotto? Tanti baci per tutti. E infine, ecco qui, le parole gentili. Quelle che mi piacciono tanto. Per favore, grazie e scusa. Buon lavoro, bimbi. Ciao, a presto. Ciao.